A condividere la ferma decisione del presidente De Luca e l'assessore alla pubblica istruzione Lucia Fortini. La situazione epidemiologica è ancora sotto controllo, ma dopo aver visto i numeri di contagiati di ieri, giovedì 15 ottobre, abbiamo ritenuto opportuno applicare una sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole per due settimane a partire da oggi, 16 ottobre. Le lezioni saranno svolte attraverso la didattica a distanza. È una decisione dolorosa e ringrazio di cuore tutto il personale scolastico, docente e non docente e i dirigenti scolastici che hanno fatto l'impossibile per far funzionare le nostre scuole senza risparmiarsi. L'obiettivo, sottolinea La Fortini, è scongiurare il peggio e sarà possibile solo con il senso civico e la responsabilità di ciascuno di noi.